mister ballardini è giusto definire strana questa partita ma magari magari sì primo tempo la prima parte del primo tempo davvero il genoa ha sofferto troppo non va bene così perché dovevamo certamente soffrire ma in un altro modo perché bisognava essere più bravi nella nella copertura dello spazio più bravi nella fase difensiva più bravi anche nelle uscite ma contro una grande squadra come la lazio loro sono in salute quindi ci può stare poi man mano che la partita è andata avanti il genoa ha fatto vedere anche cose di qualità nel gioco ha fatto vedere anche personalità quindi man mano che la partita andava avanti il genoa mia a me a me il genoa dopo insomma è stato in partita e quello è il genoa che conosciamo che cosa le è piaciuto di meno della sua squadra e su cosa lavorerà pensando già l'importante sfida col sassuolo ma quello quello che noi la nostra forza è la solidità l'attenzione la solidità l'essere squadra sempre oggi non siamo stati così attenti così compatti così bravi nelle due fasi di gioco come come spesso ci è capitato quindi questo è stato diciamo così la cosa che è venuta meno oggi nella prima parte della partita la cosa che invece le è piaciuta di più sono i tre gol segnati nel secondo tempo a una squadra in piena corsa champions ma quello che a me piace sempre del genoa è che il genoa non non si dà mai il genoa ce la mette sempre tutta lotta dall'inizio alla fine e lotta dall'inizio alla fine con con come è successo spesso con con da squadra organizzata oggi abbiamo lottato dall'inizio alla fine solo che nella prima parte non eravamo così attenti organizzati come come lo siamo di solito obiettivo salvezza e gestione delle risorse che risposte ha avuto allora noi abbiamo adesso una partita difficilissima che è quella di domenica prossima contro il sassuolo quindi l'attenzione la concentrazione la preparazione va alla partita che dovremo affrontare domenica che risposte ha avuto da giocatori come ghiglione cassata e rovella no fatto sono entrati bene sono entrati bene hanno fatto poi lo testimonia proprio il secondo tempo ghiglione ha fatto bene nicolò ha fatto bene hanno sono entrati bene in partita quindi ma questa è una è una conferma sono tutti i ragazzi che sono seri sono coinvolti quindi e questa è solo una conferma di quello che loro dimostrano in settimana grazie mister